Lubrificanti Firenze. Lubrificanti per industrie, autotrazione e agricoltura. Lubrificanti Firenze. Ricerca di prodotti sempre più all'avanguardia per qualsiasi esigenza. Gamma di prodotti altamente qualificati. Presenza nel Consorzio Petrolieri Alta Italia. Servizio di consegna pressoché immediata, con personale e mezzi propri. Ampie disponibilità di prodotti in magazzino, miscelatori, refrattometri e reagenti chimici per i controlli periodici.